Ciao a tutti vediamo come mettere la vibrazione della tastiera su android ci basta andare su impostazioni e scendere fino a trovare impostazioni supplementari premiamo dopodiché selezioniamo tastiera e metodo inserimento tra le tastiere disponibili selezioniamo la gboard a questo punto arriviamo sulle impostazioni della tastiera noi selezioniamo preferenze scendete fino a trovare intensità vibrazione tasti predefinita di sistema è off voi premete e da qua cambiate l'intensità della vibrazione quindi lo portate se volete al massimo metà quello che è fatto ok in questo momento è automaticamente salvato perciò avete la vibrazione sulla tastiera ecco qua se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao